buongiorno ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi vi parlo di questo prodotto della reoling sono delle lampade orientabili automatiche che si possono utilizzare in esterno come in questo caso ma volendo anche in interno della reoling che già vi ho recensito diverse telecamere tutti i prodotti che ho apprezzato e che sto ancora tuttora utilizzando questa invece la mia bassotta come sempre che piange perché vuole stare con me ma sei con me che piangi vi faccio vedere le telecamere e poi ritorniamo a questo prodotto e allora a parte questa che sotto la tettoia e della telecamera orientabile a 360 gradi o anche questa che è una delle prime telecamere reoling che vi ho recensito che tengo pure in esterno alimentato da questo pannellino solare anche questa si alimenta con il suo piccolo pannellino ora torniamo alle lampade e allora come vedete ha una struttura in plastica con due parti orientabili che possono essere dirette nel punto in cui preferiamo possiamo sia snodarle in questo modo che girarle in modo orizzontale questo è un sensore sia di luminosità che di movimento abbiamo dei led di stato e viene alimentato tramite un alimentatore in corrente continua quindi si collega ad una presa come si farebbe con un caricabatterie di un cellulare e quindi possiamo alimentarla in modo ermetico ma soprattutto in sicurezza per poterla fissare c'è un sistema che prevede di fare dei fori poi si incastra e si blocca con questa vitina nella parte bassa inizialmente quando lo installata pensavo fossero delle normalissime lampade perché alimentate comunque in corrente continua e sono due quindi ipotizzavo che servissero per sommare la luminosità di una all'altra invece orientandole uno in un verso e uno nell'altra riesco a ottenere una grandissima luminosità associate soprattutto a delle telecamere di sicurezza ci permettono di tenere sotto controllo tutti gli ambienti e possiamo anche gestire la sua luminosità a livello di potenza ma anche l'ascensione tramite l'applicazione ovviamente vi farò vedere tutto anche di sera quindi come si comporta al buio ma voglio farvi vedere come si comporta adesso in diretta quindi facendo una ripresa di come potere gestire tramite l'applicazione il suo comportamento non vi farò vedere direttamente l'applicazione perché mi viene difficile fare una ripresa in cui si vede a tutto per bene sono qua non piangere però vi faccio vedere che se io premo il tastino per accenderla si accendono già così con la luce del giorno potete vedere quanto siano luminose e posso spegnerle premendo nell'apposito tastino ma posso anche regolare la sua luminosità quella era la massima luminosità adesso io la riduco guardate riesco a gestire tramite questa barra quanta luminosità voglio avere posso avere pure le modalità di luce differenti quindi quando rileva il movimento posso avere delle modalità differenti che comunque vi farò vedere e posso decidere pure per quanto tempo devono rimanere accese secondo me sono dei prodotti che per chi ha uno spazio esterno ma anche l'interno quindi un garage e vuole che la luce si accenda per esempio quando arriva con la macchina in modo da poter vedere bene o al passaggio di qualche persona questo tipo di illuminazione può essere una grandissima soluzione è un'altra cosa che mi è piaciuta è il fatto che quando io esco e passo per esempio oltre questa staccionata dato che con la mia altezza supero di poco questa altezza quindi il sensore riesce a rilevare il mio movimento anche se non passo direttamente sotto ma diamo un'occhiata anche al sito del venditore dove possiamo vedere le caratteristiche tecniche ed il prezzo ricordandovi comunque che cercherò di farmi dare pure un codice di sconto per poterla comprare innanzitutto il nome del prodotto e railing flood light riflettore luminoso di sicurezza attivato dal movimento per casa intelligente dispositivo io ti funziona con telecamere di sicurezza versione pio e quindi potete alimentare tramite la presa ethernet oppure tramite wifi e va alimentata come vi ho detto con un alimentatore in corrente continua e riesce a rilevare il movimento sia delle persone che dei veicoli il prezzo attualmente mentre sto registrando il video è di 80 euro e 99 ma scontato del 10 per cento perché il prezzo originale è 89 euro e 99 ovviamente è impermeabile dovendo stare anche in esterno ma potete utilizzarlo anche l'interno quindi protezione ip65 altre diverse modalità di illuminazione che adesso vedremo e come vi ho fatto vedere poco fa ha la possibilità di regolare pure quanto si debba illuminare possiamo anche utilizzare un timer per decidere gli orari di illuminazione oppure mantenerlo costantemente acceso durante la notte per spegnersi poi automaticamente quando il sensore rileverà la presenza della luce solare e ovviamente essendo della famiglia railing si può utilizzare abbinato e quindi collegato a delle telecamere in modo da usufruire sia della luminosità del dispositivo che delle riprese e della funzione notturna delle telecamere della railing ora però andiamo direttamente nell'applicazione e diamo un'occhiata torniamo quindi alla schermata che vi ho fatto vedere poco fa tramite questo tastino possiamo accendere e spegnere in questo momento all'esterno se accesa in questo modo si è spenta possiamo decidere tramite questa barra un livello di luminosità compreso fra 1 e 100 e possiamo decidere anche il tipo di funzionamento quindi sensore di movimento che si accende automaticamente quando rileva appunto un movimento oppure possiamo utilizzare night time accendo automaticamente la luce quando il livello di luce ambiente è inferiore alla soia e poi possiamo stabilire appunto il tipo di luminosità con il quale deve accendersi o meno tempismo invece ci richiede di impostare un timer e quindi possiamo stabilire l'orario in cui deve accendersi e in cui deve spegnersi a prescindere dalla luce che abbiamo in esterno io sto lasciando però l'accensione automatica quando rileva un movimento perché è quella che mi interessa tra l'altro mi può avvisare per esempio se il mio cane la bassotta che avete visto esce muovendosi la luce si accende quindi capisco se all'esterno oppure all'interno ma anche se dovesse esserci qualche intrusione cliccando su questo tastino a forma di ingranaggio entreremo nelle impostazioni abbiamo anche la possibilità di attivare un allarme in questo caso abbiamo la voce audio cliccandoci sopra possiamo decidere pure il volume dello stesso e premendo su questa icona possiamo farlo scattare quindi una sirena la seconda voce invece ci permette di agire sulla sensibilità sia del movimento che della luminosità e io l'ho lasciato come l'ho trovato notifiche push invece è spento ma possiamo pure decidere ricevere delle notifiche sia tramite appunto notifica sul dispositivo che eventualmente tramite mail anche il led di diagnostica possiamo decidere se accenderlo oppure spegnerlo come avete visto poco fa in esterno io l'ho lasciata accese possiamo anche cambiare la data allora è ovviamente la password che vi ricordo che va cambiato su tutte le telecamere per evitare sgradevoli intrusioni da parte di curioso sono i malintenzionati ora però mettiamo qualche inquadratura di notte vi faccio vedere la sua luminosità e soprattutto vi faccio vedere la sua sensibilità passando anche oltre la staccionata e facendo vedere che si accende anche se effettivamente io non sto passando di fronte al sensore ma sto passando oltre un ostacolo che riesce ugualmente a rilevarmi e allora adesso facciamo una prova di sera quindi al buio regolerò la luminosità dall'applicazione quindi la riduca un poco qua siamo a metà comunque come vedete riesce ad illuminare ancora bene riduciamolo ulteriormente però abbiamo altre luci che si accendono comunque tramite questa funzione riusciamo a gestire la luminosità rimettiamo al massimo vedete comunque inquadrando da questa parte ecco facciamo così e allora ragazzi adesso mi vedete perché ci sono altre fonti luminose come ho detto delle lampade che si accendono in automatico con i pannellini solari con i sensori di movimento allora accendiamo quindi la lampada che non è orientata direttamente verso di me ricorderete che una indica a destra una sinistra e io sono al centro esatto quindi la accendo come vedete adesso ho riuscito a vedermi molto bene abbiamo la luminosità massima però se la riduco questa è la luminosità minima e vendone più di una riusciamo ad illuminare un ambiente anche grande quindi un ambiente esterno perché possiamo dirigerle a gestire un po il tutto comunque vi faccio vedere anche la luminosità inquadrando direttamente i faretti quindi abbassiamo tramite questa barra così abbiamo una modalità intermedia così quasi al minimo riportiamo al massimo e così quindi al massimo è un'altra cosa molto importante è quella di posizionare la lampada in modo che il sensore sia rivolto direttamente verso il passaggio quindi l'ingresso della vostra porta alla zona in cui volete che venga illuminata perché altrimenti se posizionato in questo modo se voi avete la porta in questa direzione ma il sensore indica in quell'altra direzione ovviamente non intercetterà mai i movimenti quindi dovete posizionarla rivolta con il sensore verso il punto in cui voi passerete e allora sono le 11 di sera non è passata dorme quindi anche se sono senza microfono vi faccio vedere com'è la lampada adesso il telefonino all'altezza dei miei occhi vedete che il sensore è quasi coperto ma io arrivo qua e si accende e concludiamo questo video in interno allora come avete visto queste lampade queste luci della reoling che riescono a integrarsi nel sistema che abbiamo sia di video sorveglianza o possiamo utilizzarle indipendentemente perché abbiamo una voce specifica telecamere che ci dà la possibilità di vedere quello che accade all'esterno oppure i occhi che ci permette di avere questa funzione in questo caso solo queste lampade ma ho intenzione di acquistarne perché queste me l'hanno mandata per le recensioni ma mi stanno pensando così tanto con intenzione di acquistarne almeno oltre 2 posizionarla in punti strategici per avere un sistema di illuminazione che sia automatico in alcune zone per quanto riguarda il rilevamento delle persone ma in altre zone ha bisogno che si accenda e si spende in determinati orari quindi secondo me si integra perfettamente nel sistema di video sorveglianza ma ci dà la possibilità di avere anche un illuminazione ci consenta di avere più facilità nell'utilizzo dei nostri spazi e di vedere dove non abbiamo altre illuminazioni ragazzi detto questo io spero che questo video vi sia piaciuto vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando qua sul pollicione lì su cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto